Benvenuto, anzi bentornato a Closcondicio al dottor Vincenzo Macchi. Buon dolore al dottor Macchi, ormai in mia storia non la conoscono, lei è una B2M. Da noi un anno fa fece una dichiarazione che ha fatto molto scalpore, però ancora una volta è stata profetica e disse non c'è una causa-effetto diretta, però di fatto i movimenti mafiosi tradizionalmente sono interessati a movimenti federalistici e autonomistici e votano tranquillamente soggetti federalistici come la Lega ma anche altri soggetti federalistici. Dico profetica perché in questo anno ne ho contate 10 liste localistiche o federalistiche del nord e centro-sud. Intanto se mantieni l'opinione che ci aveva già consegnato un anno fa o l'ha cambiata, questo proletcherare di liste autonomiste anche al sud, questo boom. Guardi, quelle mie dichiarazioni hanno suscitato tante polemiche, però non le smentisco certamente, non ho cambiato idea, no, non ho cambiato idea naturalmente. Penso anzi che questa tendenza si rafforzerà, soprattutto in un momento di crisi politica come questa, di crisi dei partiti, di nuove consultazioni elettorali che potrebbero segnare anche una svolta verso una terza repubblica e allora questo tipo di movimenti sarà sempre più numeroso. E soprattutto è pericoloso quello che avviene al sud, cioè la nascita di leghe o di movimenti simileghe al sud è sicuramente pericoloso perché in alcune di esse quantomeno potrebbero nascondersi interessi di tipo mafioso. Perché non dimentichiamoci mai quello che disse un collaboratore siciliano, Leonardo Messina, davanti alla Commissione parlamentare antimafia, nel 1992, rese delle dichiarazioni importanti, se disse noi abbiamo appoggiato la separazione tra nord e sud perché in quel modo noi, mafia, ci saremmo fatti Stato. Non dobbiamo mai dimenticare quelle parole. Quindi non smentisce nulla, non smentisce che i Vos possano votare queste liste del sud come anche la Lega, quello che ci ha già detto, insomma. Non lo smentisce? No, anzi, voglio dire, credo che questi fatti ulteriori... Non è stato una marea, una marea, lenta, profetico. Eh sì, sì, ma insomma non era difficile, almeno per me non era difficile. Sì, ma con i segni di poi, ma insomma, lei l'ha detto, si aprirà anche delle critiche, poi in realtà è successo che c'è un proliferare di queste liste. Prendo atto. L'ultima cosa, lei l'ha già accennata, però forse una focalizzazione, crisi economica accentua il pericolo, cioè la mafia o le mafie possono diventare un pliego importante e finanziare alcune di queste liste o comunque patrocinarle, l'ha già detto, insomma. Sì, anche questo l'ho detto parecchi anni fa, perché in momenti di crisi le mafie sono i soggetti che dispongono di liquidità e che quindi possono intervenire su tutti i mercati, sia sul mercato immobiliare, sul mercato finanziario in generale, sul mercato, possono dare crediti a aziende in difficoltà, a imprenditori in difficoltà, possono acquistare quote di società, esercizi commerciali e quant'altro e possono riciclare più facilmente. Quindi le crisi aiutano le mafie. Un politico di queste liste disse, non intitoliamo l'aeroporto di Palermo a nome di Falcone Borsellino, quando si fanno queste uscite così, tipo questa o Mangano è un eroe, sono messaggi, metamessaggi? Non so se sono messaggi, certamente sono espressioni di una cultura che non ha nulla a che fare con quella della legalità, sono espressioni di una cultura arretrata che vorrebbe appunto relegare le mafie in un museo, come stanno facendo a Las Vegas, e chiudere secondo loro la partita dell'antimafia, una volta per sempre. Ok dottor Romacchi, grazie, arrivederci.